Sì, sono meglio andare in un posto con tanta gente. Ecco, sì, sono vedi. Bella. Ecco, quello di Leopcast, di fare un pantanetto. Cioè, io li sputterò. Amoreggiato un po'. No, dovete fare così. Andate. Un po' il culo. Non riesco. Non le ho. Non ho se si va a te. Perché vai tanto del ventre il cammello? Perché io non ho le scuole, se ne brilla la carne. Vai, fai la palla. Ah, la schiena, no, guarda. Guarda che balla, balla, balla. Guarda. Starebbe. Sì, è la schiena alla donna. La schiena alla donna. Sì. Mi fai la propria senza. La propria senza voglio. Sto a fia scelle. No, è più di più. Si tratta con i brazi. E' una cosa fatta. Scusa. No, per me, veramente, io non sono normale. non si deve non deve stare sotto la mano va bene va bene sai cosa ci voleva da smaltino ma fai finire per favore fate una sfilata dalla sua porta con tanto di camminare no no vallate sul resto spalle dritte petto in fuori uno in fuori stacchetto delle veline adesso adesso dovete fare le veline insieme andammo le veline la blu, la mora e la rosa e la viola la 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 la